Ciao carissimi e carissime, benvenuti a tutti su Gold Unicornari. Allora, incomincio a mischiare degli oracoli, poi proseguirò con i tarocchi, grazie sempre di essere qui con me. Allora, vediamo un po'. Ho tagliato, prendo una carta di queste e una di queste. Tanto per incominciare guardiamo l'energia di questa stesa e poi proseguiamo. Vediamo quali saranno i tarocchi che ci chiameranno. Allora, qui è la stesa sull'amore senza ombra di dubbio. Quindi qui c'è un amore che sta arrivando, che probabilmente non ha importanza se lo conoscete o no, ma che probabilmente sentite già nell'aria. Questo è l'unione per eccellenza. Qui c'è desiderio, pienezza, amore, progettualità, legame. Insomma, ci sono, sapete che per me la prima carta è importantissima. Vediamo la seconda. Qui si tratta di un grande amore, guardate un po'. Allora, unione e unione proprio, con stabilità. Quindi diciamo che possiamo anche terminare, naturalmente sto scherzando, dico possiamo anche terminare, cioè se cercate un amore importante, un amore grande, qui è già uscito. Andiamo a vedere un po' come si sviluppa. Allora, io a questo punto voglio un po' vedere chi è questa persona, come sta, vediamo un po'. Allora, vediamo queste. Allora, che cosa ci dicono su questa persona? Intanto voglio sapere come sta. Naturalmente come stai tu e come sta questa persona. Anzi, facciamo così, perché qui parla di voi due, quindi come sta questa persona, perché ormai l'ho detto prima, e come stai tu. Allora, questo indipendentemente da questa unione che, sposto le carte per che si vedano meglio, allora, questa persona è una persona innamorata o che si innamorerà, perché tu che stai guardando magari stai aspettando una persona specifica, oppure potresti essere il single. Qui abbiamo il re di coppe, quindi il re innamorato. Guardate che energia c'è. Qui succede per molti di voi che si sentono risuonare questo video motivazionale, accade veramente qualcosa di bello. Perché, guardate, combinazione. Ho scelto, come sempre, a intuito, come vedete, due oracoli che dicono praticamente, parlano di un'unione. Poi, terza carta, re di coppe, come stai tu? Ecco, questo è come sta questa persona. Questa persona come sta o come starà? Sarà nell'amore. o comunque ha una gran voglia di innamorarsi. Ecco, o lo è già, perché potrebbe essere una persona che conosci, oppure è una persona che si innamorerà molto, ha tanta voglia di amare, di dare, di scambiare, di avere tenerezza, di essere, di guardarsi dentro, di guardarsi negli occhi, perché queste due unioni rappresentano qualcosa di importante, di simile nel modo in cui si abbracciano e si guardano. Si guardano significa anche io ti vedo, ti vedo perciò che sei. Tu, in questo momento, come vedi, sei un po' piegata in due. Qui ci sono i piatti da fare, diciamo, che rappresentano che in questo momento sei un po' sfiduciata e non credi tanto che questo amore c'è. Però ricordati che le energie sono tutte intorno a te. Mi viene già da dirti di visualizza ciò che desideri. Non alzati, non stare così piegata. Fai tutte le cose che vuoi fare, ma ricordati di desiderare. È importante continuare a desiderare. Anche se puoi sognare anche delle cose un po' impossibili per alzare la tua vibrazione, no? Impossibili che poi niente è impossibile. Anzi, tutte le cose più impossibili che pensiamo si realizzano forse di più perché ci mettiamo meno carica emotiva. Quelle più possibili, paradossalmente, per la fisica quantistica sono più difficili da realizzare perché noi abbiamo le credenze limitanti o perché magari sono accaduti dei fatti che ci fanno pensare magari il contrario di quello che è. Quindi cerca di scriverti, diciamo, anche le cose che tu vuoi per la tua manifestazione. Naturalmente te lo dico perché ti vedo in questo stato, ma adesso metto subito un'altra carta. Quindi prima bisogna chiedere, poi avere fiducia e poi stare ad aspettare, però senza l'aspettativa. Aspetta senza l'aspettativa significa di non metterci aspetti emotivi. Io adesso voglio chiedere se tu superi questo stato d'animo, se incomincia ad avere un po' di fiducia nel processo di manifestazione. Perché queste tre carte sono appunto la base di questa stesa. Quindi qui qualcuno per me arriva. Allora, vediamo se superi. Beh, tu a te stessa o a te stesso stai dicendo ho bisogno di tempo per superare questo momento. Invece il tempo è sempre solo questo presente. Certo, il tempo c'è nella vita umana, però non c'è nello spirito. Quindi nel momento in cui tu visualizzi e hai fede, in realtà le cose incominciano già a muoversi, a manifestarsi. Quindi non aspettare tempo, perché qui questa persona è già pronta. Ora, se fosse venuta un'altra carta vicino a queste due carte di unione, ma è venuto un re di coppe, ciò significa che è lì alle porte. Allora, secondo me molte persone pensano al passato perché non riescono ad avere la fiducia, perché le credenze di ciò che è successo prima, per esempio con la persona specifica, ti fanno credere che magari questo amore non arriva. E così i single possono dire non ho mai avuto una bella relazione, perché dovrei averla adesso. Attenzione, quando ti vengono questi pensieri, cambiali subito in pensieri positivi, non pensare al passato, perché il tempo, perché questa cosa si realizzi, dipende proprio dal fatto che tu sei più rivolta verso il tuo passato, come dice questa carta, che verso il tuo futuro. Allora, qui però accade qualcosa, ti accade qualcosa per cui ci sarà la salvezza per te. Bene, allora andiamo a vedere cosa potrebbe essere questa salvezza per te. Allora, voglio prendere un altro di questi oracoli. Perché se tu ti smuovi, tutto accade, diciamo, no? Tutto questo sogno, questo desiderio, che è lì, è lì pronto a manifestarsi, con queste carte. Quindi c'è un'unione. Poi, essendo venute due unioni, non escludo che qualcuno che magari aspetta qualcuno del passato, invece si manifesti anche una persona nuova, quindi non solo i singoli. Allora, vedi? Qui abbiamo la carta dei progetti o dei sogni, l'influenza universale. e quindi qui questa salvezza ti arriva proprio perché secondo me tu ti metti lì per focalizzare, se non lo hai fatto, prova a farlo, almeno prova, a scrivere questi progetti e sogni. Poi non è che devi stare lì a pensarci 24 ore. Scrivili come se li scrivessi agli angeli e sai, una lettera agli angeli. Puoi scrivere una lettera agli angeli e dirgli quali sono i tuoi progetti e affidare agli angeli oppure se vuoi anche a un santo, come preferisci, però funziona, questa della lettera degli angeli perché è un esercizio che conosco da moltissimo tempo e so perché funziona, perché tante persone mi hanno detto che ha funzionato, quindi scrivi i tuoi progetti, i tuoi sogni perché tu, questa è l'influenza universale, quindi cosa sarà la tua salvezza? Che a un certo punto, secondo me, tu sentirai proprio delle energie che sono cambiate. Allora, tu puoi cambiare veramente, completamente il tuo futuro, no? Quindi vivi nel tuo cuore ciò che veramente desideri e ricordati che se cambi i pensieri e quindi per quello che ti dico sogna, perché il sogno ti può alzare la vibrazione, poi magari si realizzerà in un modo diverso per ognuno di voi a seconda delle vostre credenze, però tutto poi arriva anche senza sforzo perché se tu pensi in un'unica direzione, cioè questa persona farà così o farà cosa, è probabile che poi diventi difficile la stessa manifestazione. Adesso io voglio ancora vedere un po' questa persona però, io voglio vedere questo re di coppe se percepisce in qualche modo la tua presenza, voglio vedere come la percepisce anche, se percepisce la tua presenza e come la percepisce. vediamo, eh. Beh, in un certo senso si la percepisce perché sente proprio che tu sei proprio una gran fortuna, o saresti una gran fortuna, è come se dicessi è la fortuna che io voglio adesso. Andiamo quindi avanti a prenderne un'altra. Tu sei una cosa gioiosa per questa persona. Vedi che prima questa carta parlava di stabilità, ti vede come una persona di terra, quindi ti vede come una persona che, o ti vedrà, ti percepisce come una persona stabile che vuole costruire, anche perché questa persona vuole questa cosa. Quindi, ascolta bene le energie, senti che da qualche parte c'è qualcuno che in qualche modo ti sta chiamando, ti sta chiamando a livello energetico e che sente che tu vuoi una relazione, come se ti telefonasse energeticamente, diciamo, eh. Allora, mettiamoci su una di queste carte. Quindi, sì, secondo me c'è proprio già la connessione, sempre da queste prime tre carte, perché siete in due, eh. Quindi non è venuto l'amore verso di te, è venuta un'unione, unione e unione di due persone. Poi adesso noi stiamo guardando questo uomo innamorato che si innamorerà, quindi nella sua connessione pensa, troverò la mia fortuna, cioè tu. e qui abbiamo proprio, diciamo, il desiderio di relazione, eh, sì, quindi, e come, poi queste sono le energie del Papa, quindi questa persona ti percepisce assolutamente, perché sente che c'è proprio la scala che vi connette. Questa scala, vi dico anche di più, non è in verticale, in orizzontale, scusate, è in verticale, cioè va verso il cielo, è come se, perché è un po' così che avviene la connessione, no, la connessione fra anime, avviene sempre passando dal cielo e poi andando a te, diciamo, no, quindi, è come se davvero ci fosse un intento benefico, universale, che vuole le unioni di coppia, che vuole l'unione, no, quindi qui, questa persona sente questa fortuna di cui parlavamo prima, guarda com'è sorridente, sente proprio che se si collega, diciamo, all'universo, là ti troverà, perché noi siamo sempre connessi all'universo, anche quando non ce ne rendiamo conto, quindi, vediamo un po' che tipo di carattere ha questa persona, beh, è un carattere sicuramente equilibrato, qui abbiamo la giustizia, quindi una persona che sa dare, sa ricevere, perché siete sintonizzati sulla stessa frequenza, quindi, secondo me, tu dovresti sentire che questa sarà una relazione equilibrata, forse la prima vera relazione equilibrata, perché anche tu, a un certo punto, lascerai andare, come abbiamo visto, diciamo, ciò che ti trattiene nel tempo, ricordati, ti ricordavi che veniva, che tu volevi aspettare, cioè, non che tu volevi aspettare il tempo, che inconsciamente tu ci mettevi il tempo, hai bisogno del tempo per tirarti fuori da questo impasse in cui ti trovi, però ricordati che quando noi sperimentiamo dei ritardi è solo per il fatto che non abbiamo avuto fiducia, il ritardo fondamentalmente rappresenta la mancanza di fiducia, quindi, tu dovresti sentire che questo messaggio è proprio per te, che sta scrutando nelle pieghe delle cellule della tua anima, dell'universo, questo è un messaggio che ti vuole arrivare, quindi questa persona che vuole un'unione, perché comunque il Papa rappresenta anche il desiderio di unione, però qui è un'unione che va oltre, perché qui abbiamo appunto la scala che va verso il cielo, no? Quindi, come era già venuta una persona che aveva desiderio di stabilità e di equilibrio, questa persona percepisce te come la sua fortuna, come una persona pratica, quindi stabile, e soprattutto come una persona equilibrata, quindi qui ci sarà una relazione equilibrata, ecco, e vediamo meglio come ti vede o ti vedrà, ti vedrà una persona che fa tante cose, che non sei certo una persona pigra, se sei una persona come le carte ti hanno già fatto notare, una persona pratica, una persona che comunque nelle sue giornate è sempre piuttosto creativa, ti vedrà anche come una persona che riflette sulle cose che non funzionano e che vuole migliorarle e che vuole lasciare andare i dolori del passato, quindi pensa a questo, se ti conosce o se ti conoscerà, pensa che tu sei una persona che vuole una vita nuova fondamentalmente e che sei operosa molto, penserà e poi ti vedrà proprio come la sua imperatrice, quindi come una persona che può essere solo adatta a lui o a lei e come ti vede, ti vede bella, soprattutto creativa, perché l'abbiamo visto anche prima che ti vede come una persona che si dà tanto da fare, molto operosa, quindi ti vede comunque forte, che sa affrontare i suoi problemi anche, no? E vediamo tu come vivrai questa persona, visto che sei uscita tu, adesso io guardo tu come vivrai questa persona, aspetta, la metto qua, qui sembra un grande amore reciproco fino adesso, ma quasi questa persona la vedo più coinvolta o comunque che si lascia più andare alle emozioni essendo appunto un re di coppe, eh? allora, come vivrai tu questa persona che sia stata una persona del tuo passato o che devi ancora conoscere, beh, come la vivrai? Guardate un po' l'imperatore, l'imperatrice, quindi, sì, è una persona effettivamente che esce molto emotiva, esce con il cuore in mano, però poi alla fine tu lo vivrai come il tuo imperatore, quindi penserai che siete proprio adatti per stare insieme, quindi, guarda un po', questa unione che è venuta sia qua, perché bisogna vederle anche le prime due carte che sono uscite, no? Quindi, guardate, imperatore, imperatrice, non è uscito un re, no? Qui sono usciti appunto l'imperatore e l'imperatrice, quindi qui se sei giovane, chissà, puoi anche diventare feconda molto presto, qui c'è proprio desiderio di una famiglia, di un'unione vera, fatta di tenerezza anche e di cose costruttive, quindi direi che a te piacerà moltissimo, ti coinvolgerà molto, sarà una persona per te anche molto intelligente, tu sei una persona curiosa, secondo me anche questa persona sarà, come dire, incuriosita dal tuo nuovo modo di essere, ecco, quindi direi che lo vivrai molto bene. certo, se è stata una tua persona specifica, forse qualcuno di voi si dovrà chiarire, e comunque anche i singoli hanno avuto delle persone un po' sfuggenti prima, ma questa stesa fa vedere che proprio qui non c'è nulla di sfuggente, c'è stato nella vita di questa persona molto probabilmente qualcosa di sfuggente, anzi vi posso dire di più che secondo me questa carta rappresenta anche le passate relazioni che può aver avuto questa persona, è come se ti dicesse me ne andavo via perché non trovavo mai la persona giusta, oppure glielo dici tu perché qui è tutto a coppia diciamo quindi è probabile che diciate anche magari lo stesso vediamo ancora qui comunque io vi vedo gioire perché l'energia è questa vedi nella tua mano c'è della luce tu a un certo punto questa è una simbologia che dice guarda nella mia mano c'è il mio desiderio e quindi concentrati sempre solo sull'abbondanza quindi abbondanza emotiva in questo caso quindi perché ci ricordiamo che all'inizio tu venivi un po' ripiegata su te stessa perché l'universo ti vuole veramente dare una luce nelle mani ciò significa un dono grandissimo e sei tu però che gli devi dire ti dà la luce ma sei tu che gli devi dire che cos'è questo desiderio devi essere molto chiara più chiari siamo dentro noi stessi più avremo e l'universo capisce quello che noi vogliamo quindi ora tu dovresti solo desiderare e sapere già che questo desiderio come vedi questa luce qui è già nelle tue mani quindi dovresti sentirti già felice adesso come se davvero questo imperatore questa unione fosse esistesse già sarà un po' più difficile per chi pensa la persona specifica perché per chi pensa una persona nuova non ha ancora le credenze diciamo ma ha solo le credenze diciamo delle sue ultime relazioni quindi può lavorare meglio a livello energetico appunto quando si tratta di una persona nuova quando si tratta di una persona specifica sappiate che c'è sempre lì in agguato quella credenza che ti dice non sarà mai così ecco quindi mi raccomando dovete guardare avanti perché se vi concentrate su ciò che è stato non sarà difficile la manifestazione perché già voi dite all'universo ma io non è che ci credo tanto e se gli dici non ci credo tanto l'universo sta fermo quindi è un po' questo è come quindi se tu visto che prima era venuta anche la salvezza davvero avessi questa luce nelle mani quindi adesso io voglio vedere anche un po' questo incontro cosa ti dice questa persona allora vediamo un po' vediamo un po' questo incontro lo guardiamo con le carte proprio di fisica quantistica è questo incontro magico perché qui stiamo parlando di un grande amore importante che arriva nella tua vita quindi vediamo che cosa ti dicono le carte di fisica quantistica beh quindi prima era già venuta la fortuna qui è il sostegno dell'anima qui siete senz'altro due anime che vi conoscete già ma si vede che prima non era il tempo anche se siete già stati insieme oppure una persona completamente nuova questo è il sostegno dell'anima quindi questa persona che cerca la stabilità non è che tu gliela dovrai dare perché comunque sei venuta come una persona pratica che si dà da fare questa stabilità è una cosa interiore è una cosa che si sente è come se questa persona ti dicesse io con te mi sento a casa io voglio stare solo con te era te che aspettavo perché era la tua anima che sentivo vedete il sostegno dell'anima quindi per questa unione per questa doppia unione nel senso che è rafforzata è un rafforzativo due carte che sono venute di seguito così quindi qui c'è proprio l'arcobaleno cioè quindi che rappresenta in questa immagine metaforica il sostegno dell'anima quindi per questo imperatore imperatrice che però ha il cuore da re di coppe interiore quindi molto forte esteriormente ma sensibile e generoso dentro almeno adesso così e guardate questa è una stesa potentissima proprio sull'amore qui altro che grande amore qui viene l'amore incondizionato quindi qualcuno che ti dà il suo cuore aveva appena detto qui abbiamo la persona più sensibile nei tuoi confronti che ti vuole dare proprio il suo cuore la sua anima perché sarà così felice questa persona di averti ritrovato mi viene da dire perché queste due anime si conoscono già e tu sei qui seduta su un trono perché è così che ti vede questa persona ti dà il suo cuore in mano è come se fosse una rivincita per te di tutte le delusioni un po' che hai già che hai avuto magari nella vita nell'amore in tutte le cose è come se tu veramente tu sei la regina del tuo mondo alla fine tu sei l'imperatrice del tuo mondo e questa persona arriva a riconoscere le tue qualità quindi è un premio che ti viene dato forse non vi siete incontrati prima così a livello profondo anche se magari vi conoscevate già per alcuni di voi per alcuni lo stanno per incontrare questa persona perché sono le prime carte uscite quindi io qui vedo proprio che tu raccogli diciamo ciò che hai donato in generale nella tua vita e prima non eravate pronti evidentemente o prima le credenze bloccavano questo questo incontro quindi carissimi carissimi io qui sono talmente chiare belle dall'inizio che voglio aggiungerci solo delle carte del divino qui perché qui la stesa è venuta proprio magica nessuna carta si è contraddetta anzi c'è stato proprio un flusso di energia continuo come potete percepire anche perché io la percepisco quindi dovreste percepirla anche voi allora il divino che il divino benedica questa unione ascoltare l'anima certo perché ascoltare l'anima perché voi avete questa connessione che c'è già quindi c'è liberazione dalla prigione intellettuale cosa significa che i tuoi pensieri o i pensieri di questa persona che però sembra più sbloccata di te perché in questo momento ha più fiducia comunque per entrambi diciamo liberare proprio la mente dai pensieri ma ascoltare l'anima perché un conto è ascoltare la mente un conto è ascoltare l'anima quindi per ascoltare l'anima bisogna mettersi le mani sul cuore stare in silenzio e l'anima dice pochissime parole qui la benedizione arriva dall'angelo nemaia che ti dice che sarai liberata da stress e disturbi un po' nervosi quindi questa carta che all'inizio ci parlava proprio del tuo stato d'animo ma poi era venuta la carta della salvezza vi ricordate e ti dice tu si chiara in quello che vuoi metti diciamo guarda il tuo desiderio come se fosse già tuo nelle tue mani e ascolta il cuore e l'anima e vedrai che tutti i pensieri diciamo che ti hanno ripiegata ultimamente se ne andranno ricordati hai bisogno di sentirti felice adesso prima che accada tu dovresti sentirti felice come se questa persona così fosse già lì perché a livello energetico questa persona ve le faccio vedere ancora una volta questa persona a livello energetico guardate è già lì guardate che ti vuole dare il suo amore incondizionato quindi carissimi e carissime come sempre io vi ringrazio dell'ascolto vi auguro un grande namaste a tutti ciao a presto